Vorresti la maglietta del tuo giocatore preferito? Oppure ne vorresti una con nome e numero a tua scelta? Passa dal link in descrizione, prezzi convenienti, personalizzazione completa e consegna veloce. E inoltre col codice GG94 hai il 10% di sconto. Venite in tanti! Salve a tutti amici youtubers e bentrati dal vostro giocatore del giocatore, benvenuti in questo nuovo video di speciale Calcio Mercato. Purtroppo ieri non sono riuscito a proporvi nessun nuovo video, sia per mancanza di argomenti veri e propri e sia perché sono dovuto purtroppo tornare dalla vacanza estiva e ho dovuto affrontare 6 ore e mezza di viaggio per tornare a casa. Ma ho deciso di rimediare e oggi usciranno non uno, non due, ma bensì tre video legati solo ed esclusivamente al Calcio Mercato giallo-rosso. Quindi vi chiedo subito di lasciare tanti mi piace per continuare a supportarmi. Detto questo, volevo iniziare questa giornata parlandovi del nuovo nome che è uscito per il centrocampo giallo-rosso che si chiama Samaseku, centrocampista maliano classe 1996, attualmente in forza al Salisburgo. È un giocatore che nelle ultime due stagioni è riuscito a totalizzare 54 presenze e 0 gol, 27 nella prima stagione e 27 nella seconda, e che si è affermato come titolare della squadra che è arrivata in semifinale della scorsa Europa League. E tutti quanti ricordiamo la debacle che la Lazio subì contro di loro qualche mese fa, un 4-1 che non ha mise repliche. Ma concentriamoci esclusivamente su questo giocatore. È un mediano che si occupa prevalentemente di giocare davanti alla difesa, ma la sua giovane età gli permette di essere molto duttile e di poter girare senza troppi problemi su tutto il reparto di centrocampo, sia come mediano e sia come mezzala. Come trequartista non tanto perché ha doti spiccatamente difensive, però comunque rispetto a Nzonzi, che è un centrocampista prevalentemente mediano e difficilmente lo può spostare da altre parti, può ancora crescere e può ancora essere spostato su diverse zone del campo. È un centrocampista alto 1,75 m, quindi è praticamente l'opposto del già citato Nzonzi, perché non fa del colpo di testa la sua arma principale, ma si occupa per lo più di gestire pala davanti alla difesa, fornirla magari agli attaccanti e in generale dare sicurezza e compattezza tra difesa e centrocampo, fra una sorta di collante tra i due reparti. Come appena detto, è un giocatore che si sta facendosi vedere nelle ultime stagioni, infatti io fino al suo ultimo interessamento alla Roma non sapevo neanche chi fosse fondamentalmente, mi sono un po' informato sulle sue caratteristiche, sulle sue qualità e in generale posso farvi questa breve analisi sulle sue qualità. È un centrocampista molto promettente, valutato in questo momento 15 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2019 sta portando la Roma a fare un'offerta non superiore ai 10 milioni, sia per la poca esperienza del giocatore e sia per l'effettivo suo valore in questo momento. E io sono d'accordo nel dire che per me 15 milioni, per lui, sono troppi. Dopo avervi fatto una breve analisi delle sue caratteristiche e di tutto quanto l'aspetto tecnico, vi voglio dire cosa ne penso. Allora, per me nella situazione attuale della Roma ci serve di meglio, mi spiego meglio, scusate la ripetizione. Da quello che si è capito, nelle ultime settimane la Roma si sarebbe concentrata in questi ultimi giorni di mercato per prendere un esterno mancino, o comunque un esterno d'attacco, e un centrocampista davanti la difesa. E io ho detto più volte che scegliendo tra le due possibili soluzioni preferirei prendere un esterno non troppo costoso davanti e concentrarmi di più sul centrocampista davanti alla difesa per due motivi principali. Uno, attualmente ci manca un giocatore fisico in mezzo al campo perché abbiamo tanta buona tecnica ma poca fisicità. Due, bisogna pensare anche al futuro perché nella prossima stagione, con buone probabilità, salvo clamorosi ripensamenti, De Rossi non ci sarà più perché terminerà il suo contratto e o andrà a giocare all'estero o terminerà comunque, non giocherà più con la Roma, a meno che non decida appunto di rinnovare. E anche se decidesse di rinnovare sarebbe comunque un 36enne, quindi me dare le chiavi del centrocampo a un 36enne, seppur forte, seppur importante come De Rossi, è comunque un rischio. Quindi io penserei prevalentemente a coprirmi, prendendo un zonzi, anche dandogli un buon ingaggio di 4 milioni e mezzo, quello che lui richiede, ma affidandogli le chiavi al centrocampo anche per la prossima stagione, perché appunto, come ho detto, se De Rossi se ne andrà, tu ti ritrovi solo con Gonalon nella situazione attuale. E per me bisogna cercare più esperienza e più fisicità, sia per questo momento attuale, perché ci manca un giocatore fisicamente portato a centrocampo, e sia per la prossima stagione, perché qualora De Rossi non rinnovi e vada all'estero, noi ci troviamo senza effettivi mediani. Tu potresti fare un colpo alla Allison, se così si può dire, nel senso che tu lo prendi forte, lo tieni in panchina, lo fai giocare ogni tanto, comunque gli dai un buon minutaggio, più di Allison, perché Allison gioca solo le coppie, però è diverso perché portiere e giocatori di movimento è una questione diversa, e poi la prossima stagione lo schiaffi il titolare e gli dai un ingaggio giusto, perché 4 milioni e mezzo per un titolare sarebbe giusto. Capite bene il discorso che vi voglio fare? Io, in questo momento, vedo più mancanze a centrocampo che in attacco, perché in attacco se non riesci a prendere nessuno, male che va ci sposti Klyvert sulla destra, un giocatore ambidestro può fare benissimo anche l'altra fascia alternandosi con Hunder, in questo caso la soluzione si può trovare. A centrocampo, attualmente, ci manca un giocatore fisico, e per quanto questo giocatore del Salisburgo ha buone doti e potrebbe crescere, non mi sembra la soluzione migliore nell'attuale. Certo è più economica, certo potrebbe crescere, però per me nella situazione attuale della Roma nel centrocampo, visto che abbiamo già giovani talenti come Cioric, Cristante che è giovanissimo, i giocatori giovani ce l'abbiamo, in questo momento ci serve fisico, maturità ed esperienza, anche al costo di dargli 4 milioni e mezzo per una stagione in cui giocherà una ventina di partite al massimo, perché con il suo acquisto tu sistemi il centrocampo adesso, e anche l'anno prossimo, e anche gli altri anni, perché un giocatore come Zanzicchia, a me piace tanto, almeno per 33-34 anni ti potrà far bene, dopo negli anni tu avrai tempo sicuramente di prendere il sostituto, ma nella situazione attuale un giocatore come lui ti serve come il pane. Può essere lui, può essere un altro, a me serve un giocatore di esperienza, fisico e forte. Chiuso il discorso. Quindi è un buon giocatore quello che ci è stato accostato, ma nella situazione attuale non ci serve. Questa è almeno la mia opinione a riguardo. Fatemi sapere nei commenti invece voi che se ne pensate dell'interessamento della Roma per questo giovane centrocampista attualmente in forza al Salisburgo. Ci vediamo presto per il secondo video di giornata incentrato sul calcio mercato della Roma. Un saluto e sempre e comunque Forza Roma! Ciao ragazzi!